Ogni singolo giorno ci offre l'opportunità di migliorare il mondo, nel guardare dentro di noi senza paura, nella voglia di non lasciarci vincere dalle sconfitte, nel coraggio di dire ciò che deve essere detto, nel nostro impegno verso l'altro. Per questo i nostri ragazzi incontrano ogni anno più di 40.000 studenti delle scuole italiane, perché una parola al momento giusto può cambiare il mondo. Sostieni il progetto di prevenzione WeFree di San Patrignano. Dona un euro con sms o due euro da telefono fisso al 45593.